Tre anni fa, Tom Ince ha detto no all'Inter. E forse se ne è pentito, perché da allora la carriera dell'esterno offensivo classe 92, figlio di un ex interista come Paul, non è andata in crescendo? Da Liverpool all'Ul City all'Udersfield. Più o meno, è un dato oggettivo. Il ragazzo ne ha parlato al Telegrappi. Quando l'Inter si è interessata a me, ero a San Siro, e il ragazzo inglese dentro di me mi ha detto di andare in Premier League.